Per Ronaldinho per Pato, Pato si muove bene, Pato va a cercare subito la porta di Sorrentino, parata non difficile del portiere del piede. Antonini, lo spazio per Ronaldinho, Antonini preferisce allargare su Ibraimovic, Ibraimovic morbido per Pato, Pato con il destro, vantaggio Milan, Pato al diciottesimo minuto. Pato, Pato, Pato! Pato, raddoppio di Pato, 2-0 Milan! Ibraimovic con l'esterno, mette in movimento Pato, altro contropiede, Pato contro Frey, prova a rimontare il centrocampo del Chievo, Pato al limite, Pato con il destro, Sorrentino gli nega la tripletta. Ture, dalla distanza, a Piatti, si salva in calcio ad angolo. Togliassino sul primo palo, deviazione di Pellissier e il Chievo accorcia le distanze. Ture, prova ad entrare in area, scontro con Bonera, ancora Ture, scarica dietro, Gelson Fernandez! Vincere Pirlo, che va morbido in area, cerca Ibraimovic, la sponda a Ronaldinho, la parata di Sorrentino! Ronaldinho prova ad andare in apropolità con Robinho, che si propone centralmente, Ronaldinho dal palone a Robinho, in area Robinho, salta Sorrentino, Robinho! 3-1, la chiude Robinho con il primo palo in rosso-nero!